In questo momento devo venire a premiare la maestra, maestro, mi permetta, io non resisto a dire un nome maschile come un femminile, tra l'altro è Leonardo un dono che, se mi è permesso, vengo ad Aguilo, quindi facciamo un applauso ai bambini della Dorni che non hanno partecipato a un sacco di femminile, tra l'altro sono sempre presenti, almeno come scuola. Grazie.